Non tocchi l'intenzione! 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 Giù le mani dagli animali! La colpa e i mali dell'Italia sono cinghiale e i lupi, vergognatemi, l'articolo 117 della Costituzione italiana prevede la potenza legislativa da parte dello Stato e delle regioni, tienilo più là, fallo leggere, si deve leggere, purché vengano rispettate le normative europee, l'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali, ciò è stato caspestato dall'emendamento che ha presentato Foti, capogruppo alla Camera dei Fratelli d'Italia nonché indagato dalla Procura di Piacenza, per corruzione e traffico, per tangenti, ha preso Mazzette, ha preso Mazzette e noi ce l'abbiamo là dentro, guardate chi è, in realtà Fiocchi, il più grande produttore di cartucce e munizioni nell'ambito venatorio, caretta, tutti i Fratelli d'Italia, presidente nazionale dell'Associazione Cacciatore. Tutti i cacciatori! Fiocchi! Fiocchi, vergognati! Fiocchi, vergogna!